Per la ventunesima giornata del campionato Under-14 di Elite si affrontano 9-2-3 test e tor di quinto. Il pallone di casa subito in avanti al diciottesimo minuto. Il pallone da Corrado per il numero 10 Cardinali. Qui mette al centro ancora per Corrado con il destro, palla sul fondo. 4-3 test in avanti sempre con Corrado che ruba un buon pallone. Il cross al centro per Dato, colpo sicuro ma Persotti è bravissimo a respingere. 4-3 test in avanti al trentesimo con Volpe che fa tutto da solo, poi carica un gran destro. Deviazione di Persotti, palla sulla traversa e nulla di fatto per i padroni di casa. Ancora 4-3 test che pressa alto il pallone per Cardinali che fa tutto bene, si gira, poi alza troppo la mira con il pallone che termina alto sopra la traversa. Nel finale del primo tempo ancora 4-3 test con Cardinali che mette al centro per Dato. Qui l'aria è spinta da parte del difensore Menichini. Con l'immagine andiamo da ripresa sempre con Cardinali, supera un avversario in velocità, poi ancora una dribbling, poi è bravo Persotti con il piede a deviare. 4-3 test in avanti qui con Dato, corsia di destra. Il cross al centro della parte opposta arriva Bianchi che carica il sinistro, palla sul fondo. Alla venticinquesimo, calcio di punizione da parte di Zitelli, il pallone batte sulla traversa, poi torna per Gulisano che mette dentro da pochi passi, il direttore di gara però annulla. 4-3 test in avanti qui sempre con Cardinali che fa tutto bene, si libra di un avversario, poi con il destro il tiro, la risposta da parte di Persotti. 4-3 test sui sviluppi di un fallo ladrale, il pallone sempre per Gulisano, qui ancora bravo l'estremo difensore del Tor di Quinto a deviare in calcio d'angolo. Nelle finali ci prova ancora la squadra di casa, qui con Metale, con la deviazione da parte di Gian Siracusa, il numero 14 del Tor di Quinto. E poi nelle finali colpo di testa di Guccione, palla sulla parte alta della traversa, ma questa è l'ultima mozione delle match con il triplice visco dell'arbitro e lo 0-0 che non si schioda.